Buonasera, sono il vostro sindaco Carlo Colizza. Questo messaggio è per aggiornarvi oggi, 23 aprile, dell'andamento del Covid-19 sul nostro territorio. Secondo i dati forniti dall'ASL registriamo 84 casi di positività, un nuovo deceduto che porta il totale a 14 e 4 nuovi guariti che portano il totale a 12, oltre a 9 persone in isolamento domiciliare. Alla famiglia colpita dal lutto va la più grande vicinanza umana e la solidarietà dell'intera città così come vanno gli auguri di un ben tornato nella comunità a chi ha superato questo difficile scoglio. Senza dimenticare gli auguri a chi lotta ancora contro il nostro nemico invisibile. Siamo uniti, stiamo saldi perché insieme ce la stiamo facendo e insieme ce la faremo e nessuno rimarrà indietro, non molliamo mai. Grazie. Grazie.